Nasce a Roma nel 1896 da un'agiata famiglia di origini toscane. Anche se, debuttando nel mondo dello spettacolo si fa passare per inglese. Cambiando il suo nome, quando a 19 anni, inizia a cantare in locali notturni della capitale. Riuscendo ad ottenere un tale grande successo da essere richiesta da vari impresari e compagnie. Teatrali. Nel 1915 viene scritturata dalla compagnia di riviste Papa. Dove lavora con Guido Riccioli. L'anno successivo debutta con Carlo Lombardi. Come prima donna nella compagnia di operette. Sino ad approdare alla città di Milano. Nella principessa della ciarda e la piccola cioccolataia. Il successo e la sua fama. In quegli anni di guerra. Diventano nazionali. Nel dopoguerra proda nel 1921 la compagnia del teatro sperimentale di Virgilio Talli. Poi è ancora sul palcoscenico con Antonio Gandusio. Ruggero Ruggeri e Aristide Baghetti. Piccola divagazione sportiva. Nel 1929 disputa l'impegnativa corsa automobilistica mille miglia in coppia con Eugenio. Stini a sacchi. Al volante di una lancia lambda berlina. Classificandosi al 29esimo posto assoluto.